Grazie a tutti Sempre siano dato il mio nome Sì, la manifestazione La mia manifestazione oggi è Comprendete cosa vuol dire? Io mi manifesto Vi faccio vedere quale sono Quale Dio sono Il Dio buono che voi non volete capire Io sono buono e do tutto a voi Tutto per voi Io piango Guardo il mondo, lo guardo E piango perché devo, devo per forza punirmi Devo per forza punirmi Vi guardo con l'amaro del cuore Mi guardo con l'amaro del cuore Sapeste, sapeste come piange il mio cuore Ma ora siamo arrivati Siamo arrivati Siamo arrivati all'unque Tra poco Tra poco Tra poco Tra poco avrete le belle sorprese Che tutti voi vi aspettate Le belle sorprese I bei castigli Che io Io Amare il cuore mando L'avvertimento 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 E campane suoneranno Nei vostri cuori Perché gioirete Anche se questo avvertimento per molti sarà una demolizione. Sì, una demolizione per tanti di voi. Ho chiamato, ho chiamato, ho chiamato, ho aspettato a lungo, ma ora non si può più, non si può più. Le anime chiamano Dio, le anime chiedono di essere liberati da questi tempi terribili. Chiedono di essere liberati, ma per liberare io devo castigare. Lo devo per il vostro bene, lo devo castigare, devo, devo. Amare il cuore, devo castigare. Non vi dico, non vi dico come. Sarebbe, come ho detto l'altra volta, terribile dire cosa succede. Ma potete immaginarlo. La mia mano non sarà leggera, non lo sarà anzi. Proprio la mano mia, di mio padre, sarà pesantissima. Pesantissima, perché, ripeto, i vostri peccati sono pesantissimi. Al limite della sopportazione divina. Della sopportazione divina. Potete capire cosa voglio dire. Non della vostra sopportazione, ma della sopportazione divina. Siamo arrivati al limite. Cuori belli, cuori belli, pregate. Almeno voi pregate. Pregate per i vostri confatelli. Pregate per le anime. Pregate, pregate, pregate. Torno a ripetere. Il padre riceve, dalla madre, riceve le vostre preghiere. Un po', un po', un poco si commuove. E forse qualcuno, all'ultimo momento, si converte. Il loro libero arbitrio rimane sconvolto. E si piegano alla vostra volontà. Pregate per questo. Pregate. Abbiate fede. Capite che io come padre devo, devo porre rimedio a questo mondo bizzarro. Devo porre rimedio a tutte le falsità che sono state dette in questo periodo allucinante. che sono state dette in questo periodo allucinante. Proteggete i bambini dal serpente. Proteggete i bambini dal serpente. Gridate al mondo che questo serpente distruggerà i bambini. Distruggerà, distruggerà la nuova, la nuova stagione. Fermatevi, fermatevi, fermatevi. Fermatevi. Chi può fermi questa strada? Chi può fermi? Allontanatevi, se potete, dalle coste. Allontanatevi, allontanatevi dalle coste. Sempre più terremoti alluvioni arriveranno per il mondo, per il mondo. L'Italia sarà l'ultima ad essere castigata. L'ultima, però, subirà una terribile esperienza di castigo. Pregate, pregate, pregate più che potete. La benedizione mia di Gesù, la benedizione della Trinità. Ora vi arrecchi sollievo, vi arrecchi sollievo per quello che avverrà il pregate. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mio Dio, quanta angoscia, quanta angoscia nel cuore. Vivi miei, vivi miei. Mio Dio, quanta angoscia nel cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.